Allora, sarò brevissimo, sì sì, sarò brevissimo. Il premio Moscati giunge alla trentesima edizione. Il valore sociale per il territorio qual è? È il valore sociale altissimo, è il valore di una terra che ha tante difficoltà e che grazie al volontariato, grazie a premi come questi, grazie alla dottoressa Lucci, crea anche un momento di chi colma le lacune, lì dove non sempre è facile avere risposte dallo Stato. Il dirigente dei Vigili del Fuoco, l'ufficiale, ha parlato di risorse. Quali sono le prospettive e quali le cose già fatte dalla politica per le forze armate e direi soprattutto per i colpi volontari? Abbiamo fatto la riforma del terzo settore, ma soprattutto le risorse che sono state investite dal governo Minniti, dal ministro Minniti, scusate, non il governo Gentiloni, sono comunque delle risorse importanti. È un lapsus voluto? No, no, assolutamente. Cambiamo argomento. Giovani, l'obiettivo della politica per sensibilizzarli ai problemi sociali? Quella di essere attrattiva. Essere attrattiva significa che deve essere lineare, deve dare prospettive, deve dare i sogni. Grazie mille onorevole.